... ... ... Vuoi sapere che cosa farò con la mia parte? Dai beneficenza Me ne vado in Olanda, cazzo Mi sbatto la troia più bella della città Nell'hotel più lussoso di Amsterdam Poi... Se trovo il tempo tra una striscina scopata Magari visito anche il museo di Van Gogh E tu? Con questi soldi che ci farai? Un progetto mio Credo che li porterò in banca Aspetterò che gli interessi maturino Bene Così fai da un bravo logopedista E ti fai sistemare con la fottuta rimoscia da mangiare a nocchie ... 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